Anno 1480, l'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza, tra fiaccole, bambiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocoglieri, per le antiche stradine in fedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose fietanze medievali. Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere, 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno. Grazie a tutti.